Ci apprestiamo a vivere un ultimo weekend di novembre, certamente più invernale che autunnale. Assaporeremo proprio il primo freddo invernale, questo perché c'è una discesa di aria fredda che interesserà maggiormente l'est europeo, però si farà sentire proprio nella sua fase di discesa dalle alte latitudini fin verso le medio-basse latitudini europee, europee poi orientali, però si farà sentire proprio con questo passaggio, con questo moto meridiano, temporaneamente anche sul nostro Abruzzo. Quindi vivremo un weekend sotto l'aspetto delle temperature tipicamente invernali. Oggi, sabato, avremo anche un po' di instabilità atmosferica. Non avremo nel maltempo, nel tempo perturbato, però certamente quest'aria fredda durante il suo passaggio potrà far diventare l'atmosfera un po' riequieta, quindi ecco che dove ci saranno gli annuvolamenti più consistenti avremo qualche precipitazione, visto la diminuzione delle temperature, ecco che queste precipitazioni risulteranno nevose fino a quote inizialmente relativamente basse, tra i 700-900 metri, ma poi anche fino alle quote di bassa collina a 200-300 metri. Vento di grecale, rinforzo, mare mosso e temperature ovviamente insensibile diminuzione. Domani andrà meglio sotto l'aspetto dell'atmosfera, giornata sostanzialmente stabile, cielo sereno o poco nuvoloso, però attenzione alle temperature, le minime continueranno a scendere, ecco che avremo diffuse gelate sull'Abruzzo anche nelle conche e vallate interne a quote di bassa collina. Ventilazione ancora da grecale, mare mosso e temperature, le minime in ulteriore diminuzione, le massime in leggerissima ripresa, ma il complesso delle temperature domenicali sarà quello invernale, non certamente autunnale.